ciao ragazzuoli allora questo qui è un video che non ha nulla a che vedere con le recensioni eccetera 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 è un video che vuole semplicemente spiegarvi che cosa succederà il 23 di giugno succederà non qui sul mio canale mi raccomando ma sul canale del marchese dei lego abbiamo fatto questa collaborazione tutto è nato da un'idea dei ragazzi di brick imagination non so se vi ricordate sono i ragazzi che producono quelle meravigliose teche in cui mettere al riparo i nostri bellissimi lego e qual è stata l'idea l'idea è stata quella di unire le nostre forze per dare nel nostro piccolissimo una mano a tutte le persone che si sono trovate in difficoltà a seguito degli eventi climatici avversi che si sono ahimè verificati nella regione emilia romagna in particolare in romagna dove ci sono state le zone più colpite l'idea è stata quella di fare un'asta quindi farete se ve la sentirete ovviamente nessuno obbligato farete le vostre offerte durante la live che durerà circa un'ora e mezza penso un paio d'ore al massimo non di più ma non finisce qui nel senso che siamo riusciti a coinvolgere in questa serata anche tre personalità che chi segue il mondo lego insomma non può non conoscere vi sto parlando di maurizio lampis di andrea lattanzio norton 74 e di mirko soppelza tutti e tre ci hanno dato la loro disponibilità a partecipare con noi in live all'evento quindi ci saranno loro parleremo con loro e voi potrete anche fare tutte le domande che vorrete a questi tre big builder chiamiamoli così del mondo lego mirko ha deciso vista l'iniziativa di mettere all'asta uno dei suoi libretti di istruzioni oramai sold out qui sotto nella descrizione poi vi lascio tutti i link se volete andare a vedere un po più nello specifico i dettagli ha deciso come vi dicevo di mettere all'asta anche uno di questi libretti di istruzioni quindi oltre alla teca ci saranno anche queste istruzioni vi ripeto sold out introvabili sono dei gioielli le istruzioni che fa mirko quindi ricapitolando seratona live a partire dalle 21 e 30 il giorno 23 giugno sul canale del marchese dei lego io insieme al marchese e alla marchesina presenteremo la serata durante la serata ci sarà appunto quest'asta benefica in cui ci saranno sia la teca messa a disposizione da break imagination sia le istruzioni di montaggio messe a disposizione da mirko soppessa tutto quello che verrà ricavato da quest'asta lo devolveremo alla protezione civile che si occuperà poi di impiegare nel modo migliore possibile insomma per aiutare le persone meno fortunate spero veramente che partecipiate in tantissimi a questa serata anche perché come vi ho già detto è una serata che facciamo non tanto per promuovere i nostri canali e tutto quanto ruota intorno ma nasce veramente con l'intento di metterci noi a disposizione degli altri insomma per dare un po' di risonanza all'evento in sé e cercare di raccogliere il più possibile per poi destinarlo appunto in beneficenza non mi resta altro che salutarvi ea rinnovarvi l'appuntamento per venerdì 23 giugno ore 21 e 30 canale del marchese dei lego ciao ragazzi